Farmacie comunali a Battipaglia. Il TAR decide per la chiusura della vicenda tra il Comune di Battipaglia e il COFASER il consorzio che gestiva le farmacie comunali, almeno quella che si è svolta nelle aule del TAR. Mentre in Consiglio Comunale è stato proposto il proseguo della gestione transitoria delle farmacie attraverso il consorzio stesso, il Presidente del TAR, Francesco Riccio, ha chiuso il ricorso risalente al 2017 quando il Comune chiedeva il pagamento al consorzio e il rimborso delle quote di partecipazione all'indomani del recesso del Comune da COFASER. Alla fine le parti, come scrive il mattino, hanno dichiarato superata la questione del Tribunale e ha concluso l'iter processuale. Una vicenda lunga e articolata che è arrivata sin dinanzi al TAR e che ha trovato una soluzione solamente a luglio scorso quando il Comune e lo stesso COFASER hanno trovato un accordo per compensare ogni spesa. Vicenda chiusa almeno per il Tribunale, ma non per i cittadini battipaglisi. Quel che ancora manca all'appello invece è la gestione effettiva delle farmacie. Proprio nei giorni scorsi, infatti, il Consiglio Comunale è stato proposto una gestione transitoria da parte del COFASER che andrà avanti per almeno un altro anno. La dimostrazione è che nonostante siano passati ormai 10 anni dal recesso, il Comune di Battipaglia ancora non ha trovato una soluzione. Eppure le proposte sono state molteplici da questo punto di vista, fra le tante anche l'affidamento alla Pignatelli, una società speciale da tempo abbandonata, ma che potrebbe essere ripresa in mano anche per la gestione del piano di zona che vede Battipaglia rivestire il ruolo di Comune capofila. Una soluzione evidentemente non è ancora stata trovata.